sfogliatine con ananas sciroppato e nocciole guardate quanto sono carine e sono anche facili da fare prendete un rotolo di pasta sfoglia e ricavate sei rettangoli su ogni rettangolo praticate delle incisioni con un coltello ben affilato in questo modo servirà poi per la decorazione mettete al centro un cucchiaino di marmellata o di confettura spolverate con della granella di nocciola aggiungete la fetta di ananas prendete i lembi e portateli al centro quando li avete messi al centro tutti e quattro premete bene e concludete con una nocciola una spolverata di granella di nocciole zucchero di canna mettete in forno a 180 gradi 20 minuti un po di zucchero a velo e il dolcetto è pronto